Vito, Frazi? Guarda qua! Ahi sta! Vito, Frazi? Come? Guarda se non ho filmato! Frazi! Chi è? Vito? Chi è? Si scatti... Mi imagino que no los gustan los ositos Chi è bacano! Chi... Chi è Ros belta! Alli, il via lo come un mar doveva! Cartola lo tengo que darme un marido Oui parfait Chi des earringsommnrone! One otherosa E' la possibilità di... Che ricco! E' la desesperazione! Che ricco! Non si agarro! No, è un trenzato! Più lo che so? Che è quello, Francesco? Ah sta... E lo comio!